Forse a molti il nome di Shlomit Malka dirà poco o niente, ma se diciamo il nuovo volto di intimissimi, probabilmente sarà più facile capire di chi stiamo parlando. Shlomit ha 21 anni, è nata e cresciuta a Tel Aviv ed ha una storia molto particolare alle spalle. Guardando le sue foto sembra incredibile, ma questa ragazza ha fatto parte dell'esercito israeliano fin dall'età di 18 anni, col grado di caporale. Ma come c'è arrivata una soldatessa israeliana sulle copertine delle riviste di moda più prestigiose del mondo? Semplicemente postando alcune sue foto sui social, principalmente Facebook. Alcune agenzie di moda l'hanno notata e contattata ed ora la sua carriera è in ascesa. Infatti Shlomit, prima di diventare testimonial di intimissimi, ha prestato il suo volto a campagne pubblicitarie di marchi molto noti come Ralph Lauren, L'Oreal, Toshiba, Yogurt Müller, insomma, per avere solo 21 anni, ha un curriculum di tutto rispetto. L'equilibrio tra carriera di modella ed esercito mi fa stare bene, mi fa tenere i piedi a terra, ha dichiarato la bellissima Shlomit, che deve il suo successo anche e soprattutto alla disciplina ferrea imparata nell'esercito, oltre naturalmente alla sua strepitosa bellezza.